Sono pronte a chiedere la scarcerazione. I pusher finiti in manette nell'operazione Duomo Vecchio è infatti a dieci giorni dalla convalida dei 30 arresti, 25 dei quali convertiti in ordinanza di custodia cautelare che partono i primi ricorsi al Tribunale del Riesame di Firenze. Tra questi circa una decina sono stati presentati dall'avvocato Alessandro Mori che assiste la gran parte degli accusati. I legali punteranno sulla derubricazione del reato dal primo al quinto coma, ossia la modica quantità che significherebbe così molto probabilmente la scarcerazione. Secondo i difensori, infatti, lo spaccio, seppur reiterato, sarebbe comunque legato a pochi grammi di droga, una linea diametralmente opposta a quella del GIP del Tribunale di Arezzo che ha tenuto in carcere gran parte degli arrestati nel corso della maxiretata al Parco del Pionta. Prosegue infine la caccia degli uomini della squadra mobile di Arezzo guidata da Francesco Morselli agli ultimi spacciatori coinvolti nell'operazione e ancora liberi. è stato infatti arrestato nelle ultime ore un altro dei pusher che in un primo momento era sfuggito alla cattura il quinto di sei destinatari di custodia cautelare. Si tratta di un 28enne nigeriano ritenuto dagli inquirenti uno dei pusher più attivi della piazza cittadina.